Ciao a tutti amici benvenuti sul canale. Eccoci con i nostri costoletti e continuiamo con le dediche. Ho diverse dediche da fare e continuiamo con le nostre dediche del nuovo biglietto. Allora questo è il biglietto del gattino numero 27. Questa è una serie 62 che dedichiamo a Francesca e Pagnuolo. Ciao Francesca. Ecco questo biglietto. Ok basta la nostra gattata e buona visione a tutti amici. Non prima di girare. Ecco. È buona così o è troppo? Allora incominciamo. Subarte andando a destra, giù, sinistra, giù, sinistra e sopra. E abbiamo finito. Ok. Simbolo buono, ci abbiamo la casa e vediamo un po' se troviamo la casa. gabbietta, collare, fiore, cibo, medaglietta, divano e cuccia. Qua abbiamo una coccarda, i peccine, le forbici, la lattina e la banchina. Niente da fare amica. Francesca mi dispiace ma il biglietto non è vincente. Tanto vi saluto e sarà per la prossima volta. Numero 27 non vincente. Adesso passiamo a Paola Marcazzan. Ciao Paola, qui ho un bigliettino per te. Ok. Qui abbiamo il numero 40 della serie 72. Sempre. E il bigliettino dei cani. Vediamo un po' i cani, i cani che ci dicono. Partenza. Destra. Sotto. 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 Destra. 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 E abbiamo sbattuto. Vabbè. Allora simbolo. Abbiamo la banchina. E vediamo un po' se c'è questa banchina. Sapone, coccarda e cucina. Ah la banchina. Buone Paola. Abbiamo preso il simbolo. il simbolo. Vediamo se c'è questo qualcun altro. Fontana. E palla. Poi abbiamo cuore. Casa. Piore. Medalletta. E la cina. Allora la banchina ci dice 3 euro. E abbiamo ripreso il biglietto carissima Paola. Intanto è di fallito. E abbiamo vinto contro. Abbiamo ripreso il biglietto per me. Non è una vincita però almeno non è perdente. Ok. Ciao. Alla prossima dedica. Adesso passiamo ai cuccioli d'oro dei gattini. Questa la dedicavo a Mirella Loddo. Ciao Mirella. Ok. La dediciamo a Mirella Loddo. Questo è il numero 41. Serie 72 sembra. Vediamo i gattini cosa ci dicono sembra. Allora. Vediamo un po'. Partenza. Destra. Sotto. Sinistra. E sopra. Quando andiamo sopra non si conclude niente. Mi dispiace Mirella. Vediamo un po' col simbolo. Se pesciamo il simbolo. La medalletta. Allora albero. Cibo. E fiore. Poi abbiamo forza. panchina. E cuore. Poi abbiamo la coccarda. Il collare. E il pettine. Niente da fare. Casa. Sapone. Palla. Coppa. E cucina. Niente Mirella. Mi dispiace. Ma il biglietto non è più di più. Paglietto. E pazienza. Che tu guardiamo qua. Ehm. Quindi già vi saluto. E saluto. E saluto. Buona prossima volta. Ok. Adesso passiamo alla prossima dedica. numero 21, sempre stessa serie, sempre cuccioletti, allora cuccioletti gattini, questo si chiama Luisa De Bao, ciao Luisa, ecco questo biglietto, ok, allora vediamo un po', cara Luisa, che ti dice il tuo bigliettino numero 21, allora partenza sotto, destra, sotto, destra, destra e sopra, ah mannaggia, quando ci fa guardare sopra abbiamo già forza, ok, cara Luisa, attenzione, vediamo un po' quello simbolo, la cuccia, vediamo un po', albero, coccarda, sapone e cibo, abbiamo la casa e il fiore, abbiamo il divano, la coppa, le forbici, il peccino, la fontana e la casa, Gabbietta, Gabbietta, niente da fare a Luisa, mi dispiace, ma il biglietto non è vincente, tanto di saluto e sarà buona la prossima volta, adesso passiamo al prossimo biglietto numero 26, che dedico a Gabbiella Marcaccioli, ciao Gabbiella, ciao, ecco qui il biglietto dei cuccioletti numero 26, e qui sono i cagnolini, vediamo un po' i cagnolini, che ci dicono, allora, partenza sotto, destra, destra, destra e destra, niente, con le pecce abbiamo finito, adesso vediamo un po' il simbolo bonus, albero, vediamo un po' successo in albero, cucina, forbici, casa e lattina, poi abbiamo una fontana, la coppa, gabbietta, cuccia e divano, niente da fare, poi la banchina, il cuore, il cibo, la targhetta e il poesce, niente amici, niente da Gabbiella, mi dispiace, ecco, ma il biglietto non è bucante, e che ci possiamo fare, pazienza, come si dice, no? Ok, tanto ti saluto, e sarà per la prossima volta. Ok, adesso passiamo all'ultima dedica dei cuccioli, sempre un cagnolino numero 20, questo lo dediciamo a Roberto Chiringhelli. Ciao, mi sembra che è Francesca, la moglie che mi segue con il telefono del marito, se mi sbaglio correttimi Francesca. Comunque saluto anche tuo marito Roberto. Ok, vediamo un po' che ti dice il tuo biglietto. numero 20, vediamo, una destra, siamo a 3 euro di recupero. Ok, allora, partenza, giù, destra, 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 giù. Ah, bene, biglietto Vincenzo, carissima Francesca. Se non sbaglio diciamo Francesca, correttimi se sbaglio, comunque mi sembra che diciamo Francesca. Allora, con la forzetta abbiamo raggiunto un premio. Vediamo un po' il simbolo, che dice sabone. Allora, coccarda, casa, cuccia e lattina. Abbiamo cibo, cuore, peccine e divano. Abbiamo fontana, targhetta, fiore e gabbietta, niente. Allora, abbiamo un premio che ci dice 5 euro, ma meglio di 3. Niente, allora, carissimi amici, cosa abbiamo combinato con questo video? Abbiamo costato 6 bigliettini di cuccioli, di cui abbiamo fatto il recupero. Uno, con il 20 abbiamo recuperato 5 euro e con il numero 40 abbiamo recuperato 3 euro. E niente amici, pazienza, che ci possiamo fare? Comunque, a me questo biglietto piace e lo porterò. Vi avverso già che possivelmente vedrete questo biglietto con la leggerina. Perché mi piace? Non lo so, vabbè, si tratta di cuccioletti, che a voi viaggiano tanto, cani, gatti, in particolare gatti. Comunque, spero che anche a voi viaggiano. Tanto un biglietto vale l'altro, se devi vincere, devi vincere, comunque. Niente, comunque io con questo biglietto ho già fatto 4 bigliettina bella. Ma oggi non è andata proprio così. Vero, pazienza? Abbiamo fatto 8 euro di recupero, pazienza. Intanto vi saluto, vi auguro un buon venerdì di Carnevale, che oggi è l'ultimo venerdì grasso. Perché è l'ultimo venerdì di Carnevale, del periodo di Carnevale. Io ho messo anche Gicarella, Gicarella, Stello Bilanzi, come le chiamate? Tanto mi fa vedere che Carnevale. Ok, la lina, ok. E niente, buon divertimento a tutti, buon fine di settimana. Non si può che questo sarà la grande. Purtroppo i carri penso che quest'anno non ci saranno. Sicuramente di no, però non lo so. Vi auguro comunque un buon fine di settimana, amiche, il video appuntamento al prossimo video. Iscrivetevi, condividete e pollicenzo alla lina. Ciao ciao a tutti, al prossimo video. Un bacio e un abbraccio a tutti. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.